Ciao ragazzi, io sono Carolina e in questo video del corso su Arduino partendo da zero vi farò vedere come collegare Arduino al PC. Per prima cosa vi serve il cavo di collegamento. Il cavo di collegamento è un cavo USB A USB B, di quelli usati per le stampanti, come questi qua che vedete. Bene, se per ora voi prendete Arduino e lo collegate al PC con il cavo, diciamo che è ancora non potete fare niente perché non avete installato né i driver per il riconoscimento di Arduino né il software Arduino. Quindi andate su questo sito web, www.arduinocc, nella sezione Download e qui troverete i vari link per scaricare il software per la vostra piattaforma. Noi stiamo utilizzando Windows, quindi abbiamo due possibilità, Windows Installers e Windows Zip. Con Windows Installer voi scaricherete un file, un eseguibile che farà partire l'installazione automatica guidata del software Arduino e scaricherà sia i driver, installerà sia i driver che il software Arduino. Se invece scaricate il Windows Zip, così, ops scusate, ho sbagliato pagina. Ecco, se invece voi scaricate lo zip, dentro lo zip troverete una cartella che dovrete estrarre e qui dentro vi sarà l'eseguibile dell'Arduino software e l'eseguibile per installare i driver che quindi dovrete installare voi separatamente. Io, ai meno esperti, consiglio di scaricare il Windows Installer. Quindi scarichiamo il file, cliccandoci sopra. Ecco, ora qui viene richiesto il supporto, io ho già dato, quindi per ora andiamo avanti. Salvate il file. Il download è finito, andiamo nella cartella download, cliccate col tasto destro e l'eseguite come amministratore. A questo punto, beh, qui andate avanti. In questa schermata vi fa vedere quello che verrà installato, io vi consiglio di lasciare tutto spuntato e di andare appunto avanti. Qui vi è la cartella di destinazione della vostra installazione, io lascio quella di default e premiamo su install. L'installazione è completata, possiamo premere su close e a questo punto andiamo a verificare che l'installazione sia avvenuta con successo. In particolare che i driver siano stati installati e che quindi ora il vostro Arduino venga riconosciuto dal PC. Quindi prendiamo ora Arduino e colleghiamolo alla USB. Ecco, ora andiamo in gestione dispositivi nel pannello di controllo, sta aprendo, ecco qua dovete trovare la voce port com Lpt, questa, e sotto di questa dovrete trovare una nuova com associata ad Arduino Uno. Se voi state utilizzando non Arduino Uno originale ma un Arduino compatibile, qua probabilmente non troverete scritto Arduino Uno, ma comunque dovrete trovare una nuova com associata al vostro dispositivo. Andiamo ora nel software di Arduino e verifichiamo che anche questo riconosca l'Arduino che avete connesso al PC. Bene, andiamo nella sezione strumenti e qui dove vedete la voce porta, se cliccate, vedete apparirà la com 4, la com appunto sulla quale abbiamo connesso Arduino. A questo punto è tutto, ora Arduino è in grado di comunicare con il vostro PC. Bene, nel prossimo tutorial vedremo, faremo una breve panoramica, una breve descrizione dell'ambiente di sviluppo di Arduino.